Grazie a tutti, grazie a Paolo Ferrero, vicepresidente del Partito della Sinistra Europea, di essersi messo a disposizione in Transform Italia per questa breve intervista. Abbiamo avuto l'opportunità di sentire il presidente Einstein-Bahn qualche settimana fa e come il giudizio del Partito della Sinistra Europea sulle iniziative che l'Unione Europea sta mettendo in campo per affrontare il Covid, la crisi, soprattutto quella post-sanitaria, cioè la crisi economica, è un giudizio che penso che molti membri del Partito della Sinistra Europea condividono. So anche, abbiamo saputo appunto, che c'è una piattaforma uscita recentemente dal Partito della Sinistra Europea. Allora, Paolo, la prima domanda è proprio qual è questa piattaforma, quali sono gli elementi che possono promuovere una campagna europea dei soggetti che ne fanno parte e come riusciamo noi in Italia a far vivere questa dimensione del Partito della Sinistra Europea. Intanto ciao a tutti e tutte e grazie a Transform Italia per questa opportunità e grazie per il lavoro che fate generalmente di informazione, di socializzazione delle informazioni, delle cose che avvengono sul piano europeo. Questo è un punto importante il vostro per appunto far conoscere delle cose che altrimenti in Italia non verrebbero conosciute. Quindi grazie a voi e sono molto contento di essere qui. Come partito della Sinistra Europea il punto di partenza è una valutazione di quello che sta succedendo e cioè il dire guardate che il Covid non ha fatto altro che evidenziare dei difetti strutturali di come funziona l'economia, il liberismo e l'Unione Europea. E quindi in qualche modo il Covid non come la causa ultima ma come l'elemento scatenante di una crisi che però va risolta nei suoi aspetti generali. E nei suoi aspetti generali la valutazione del Partito della Sinistra Europea è sostanzialmente questo. Primo, che bisogna costruire un welfare europeo a partire dalla sanità pubblica a livello europeo. Non vuol dire che deve essere un welfare centralizzato, ma vuol dire che il tema della costruzione di un sistema sanitario europeo è un'emergenza ed è una prospettiva, un obiettivo che noi ci dobbiamo correre. Legato a questo c'è un'idea del tipo di Europa che si ha. Non a caso nel documento che abbiamo approvato noi mettiamo che è necessario fare un sistema fiscale europeo. E questo è un punto fondamentale perché oggi l'Europa, l'Unione Europea, è basata sull'idea della massima concorrenza tra gli stati. E quindi gli stati si fanno concorrenza riducendo le tasse, in particolare riducendo le tasse sulle imprese. E producono questo scandalo che le grandi multinazionali praticamente vanno a mettere la sede nel paese dove pagano meno tasse e l'Europa funziona a essa medesima come paradisi fiscali in concorrenza l'uno con l'altro. Noi abbiamo detto una cosa chiara, ci vuole un sistema fiscale comune sia sulle persone sia sulle questioni in particolare delle imprese perché questa è la base materiale per produrre un'Europa non basata sul massimo della concorrenza ma basata sulla cooperazione interna e produrre un'Europa che metta l'elemento della costruzione del welfare come un punto decisivo. Quindi questo diciamo è un primo blocco di ragionamento. Come viene finanziato questo? E si individua la strada maestra, la via maestra della Banca Centrale Europea. E quindi che non tutta questa costruzione deve essere basata sul pagamento delle tasse dei cittadini o addirittura sul recupero di soldi sui mercati. Si dice qua deve intervenire la Banca Centrale Europea e non mettere il debito in mano ai mercati. Perché? Perché la Banca Centrale Europea gode di una fiducia tale e l'economia dell'Europa ha una potenza tale da permetterci di usare questa ricchezza sociale a fini comuni. Quindi intervento immediato, sistema sanitario, intervento immediato, garanzia del reddito, intervento di più lunga durata, riconversione ambientale dell'economia. Perché noi non dobbiamo tornare ad inquinare e a distruggere l'ambiente come prima, noi dobbiamo produrre posti di lavoro in settori ambientalmente compatibili e producendo una vera e propria riconversione. Questo nella consapevolezza che l'Europa, essendo più o meno a pari merito con gli Stati Uniti la più grande potenza economica del mondo, se l'Europa sceglie con rettezza una strada della riconversione ambientale, questo ha effetti globali. Quindi c'è un'idea, diciamo, non solo dello sviluppo dell'Europa, ma del rapporto tra Europa e Europa. Legato a questo, due cose brevissime. Primo, allargamento della democrazia, cioè evitare che la lotta al coronavirus si traduca in una riduzione della democrazia negli spazi di mobilitazione e in una verticalizzazione presidenzialista dei sistemi politici, ma invece allargamento della democrazia. E l'altro, disarmo e pace. E quindi no F-35, no esercito europeo, no aumento dei budget come chiede Trump, ma invece uscita dalla Nato. Perché questa è la parola d'ordine in un'idea di un'Europa che cooperi al suo interno e che sia fattore di cooperazione nel campo mondiale e quindi non l'Europa grande potenza economico-militare, ma l'Europa guida di una idea di transizione ecologica delle produzioni, di nuovo rapporto tra società e natura, tra società ed ambiente, e dentro questo quindi la lotta per la pace, la lotta contro le spese militari. Questa è l'idea, diciamo, di indirizzo con cui ci siamo mossi e su cui si è fatto un documento comune di tutti i partiti e su cui stiamo iniziando a mettere in piedi degli elementi operativi per cercare di riuscire a far tradurre in pratica questi orientamenti. Scusate, ho chiuso il microfono. Ti ringrazio Paolo. Con noi c'è anche Franco Ferrari e Roberto Musacchi dalla redazione di Transform. A loro la parola per le domande. Paolo, Franco. Sì, intanto dico che il fatto che si lavora in piattaforma unitaria, che io vedrei anche bene in relazione con le proposte a parte del GUE, che è l'altro strumento. E' chiaro che il GUE è uno strumento parlamentare, però ha anche il beneficio di essere oggi la struttura effettiva e la struttura effettiva, perché sappiamo che la struttura effettiva europea ha comunque, pur essendo coinvolgendo molti partiti, alcuni non aderiscono. Però io volevo, quindi positivo che si lavori su questa strada, volevo evidenziare quello che a me sembra ancora un limite, una difficoltà, una contraddizione, che è nella piattaforma ma è più in generale nella sinistra anticapitalista europea. Cioè, da un lato io ho visto che sostanzialmente tutti i partiti politici nazionali di sinistra indicano soluzioni europee alla crisi. D'altra parte tu hai detto l'ABCE, hai detto l'UE europeo, hai detto una serie di cose che prevedono una dimensione europea. Però noi sappiamo che soprattutto dopo la vicenda greca, dopo il 2015, in diversi partiti della sinistra europea, è emersa una valutazione invece molto più critica nella possibilità di costruire risposte europee e che questo, come dire, è rimasto un tema un po' risolto. Io l'altra settimana, su Transformo, ho scritto un pezzo sulle proposte del blocco della sinistra europea, che è un partito che dieci anni fa si definisce un europeo di sinistra, dopo il 2015 è andato su posizioni diciamo di irriformabilità dell'Unione, che ha fatto una buona proposta che va nella direzione che anche tu indicavi, che però è una proposta che ha dimensione europea, però lasciando irrisolto il tema della struttura politica. Allora, e chiudo e vengo alla stanza della domanda, è possibile costruire risposte di tipo europeo, la BCE, l'Unione europea, eccetera, eccetera, e non porre il tema dell'Unione politica a livello europeo, il livello sovranaziale degli decidi uomini? Perché questo è un tema che invece stanno ponendo i tedeschi, in parte anche i tedeschi con i francesi nell'accordo ieri, e su cui, siccome è la sinistra, avrei bisogno di cominciare a dire qualcosa di più definito. Vado? Sì. Sì, Paolo. Ma, grazie per la domanda, anche se io ritengo che quello che tu individui come una contraddizione della sinistra, in realtà, è una contraddizione dell'Unione europea. Perché? Noi, ad esempio, abbiamo avuto ieri quello che viene descritto, un accordo tra Europa e Francia, tra Francia e Germania. C'è da qualche parte l'idea che la Francia e Germania debbano decidere qualche cosa? No. Perché c'è una Commissione europea, c'è un Parlamento europeo, avanti. Cioè, siamo a una versione dell'Europa completamente extralegale, non so come dire. Cioè, due si incontrano e decidono loro e Macron dice e poi consiglieremo che ci sia l'unanimità della Commissione europea attorno alla nostra proposta. Cioè, siamo alla follia antidemocratica nel funzionamento dell'Unione europea. Questo è il problema dell'Unione europea, che ha trattati fatti per impedire alla politica di intervenire sulle misure liberiste che sono costituzionalizzate dai trattati. Così è fatta l'Unione europea. Da questo punto di vista, quando il blocco dei Schiara dice che l'Unione europea è irriformabile, ha ragione. Le regole costituzionali dell'Unione europea sono fatte per impedire uno sviluppo positivo dell'Unione europea. Sono fatte per inchiodarle nell'impianto liberista. In questo c'è una differenza fondamentale tra la Costituzione italiana e le regole dei trattati europei. Perché la Costituzione italiana è aperta a diverse possibili politiche. Si possono fare politiche di destra e di sinistra con la Costituzione italiana. L'Unione europea è fatta per permettere unicamente politiche di destra. Questo è il punto. Allora, questa contraddizione, cioè di trattati costituzionali fatti per impedire che la sovranità popolare possa modificare l'indirizzo, è la contraddizione dell'Unione europea. In questo l'Unione europea è molto peggio degli Stati Uniti d'America. Gli Stati Uniti d'America sono un posto formalmente democratico. Se Sanders avesse vinto le elezioni avrebbe potuto cambiare politiche. In Unione europea questo non è previsto per come sono fatti i trattati. Questa è la contraddizione. Da questo punto di vista la sinistra sa che non c'è un percorso lineare come invece c'è stato possibile in Italia con l'idea della democrazia progressiva, della strategia delle riforme di strutture. In Europa non c'è un percorso lineare. C'è un percorso che procede per rotture e ricomposizioni. Che cosa individua oggi l'Unione europea, scusate, la sinistra europea unitariamente? Individua un modello sociale basato sull'idea di un fisco comune in tutta Europa, in modo da poter costruire un welfare comune in tutta Europa, in modo da avere un'Europa basata sulla cooperazione e non sulla concorrenza tra sistemi nazionali. Questa è l'idea. Quanto riusciremo a realizzare questo nella crisi del coronavirus? E quanto invece verrà realizzato, tra virgolette, da destra, diciamo, sull'idea della concorrenza nazionale? Questo sarà frutto del conflitto politico. Ma non esiste una strada lineare che passi dalla situazione attuale agli Stati Uniti socialisti d'Europa che fanno politiche positive. Non c'è una strada lineare, ma non è per una contraddizione nostra, è per un elemento drammatico dell'Unione europea che non rispetta le regole della democrazia borghese nella possibilità che il volere popolare si manifesti linearmente nella modifica delle politiche. Questo è il problema dell'Unione europea. È una sorta di monarchia costituzionale ordo-liberista, ma di questo si tratta. Allora, in questo senso, non è che non vedo le differenze tra i siti, perché è evidente che ci sono. Ci sono partiti più seccamente favorevoli a un'idea di Europa e altre che hanno pulsioni e più di, diciamo, sul piano nazionale. A me però preme sottolineare la cosa importante, che questa volta il partito della sinistra europea è riuscito a trovare una proposta unitaria tra tutte le diverse tendenze e che questa proposta mette al centro la soluzione europea. Non perché diamo una valutazione positiva dei trattati o dell'Unione europea così come essa è, ma perché tutti sono concordi sul fatto che il livello europeo è il livello minimo per riuscire ad incidere positivamente sui meccanismi di accumulazione, sulla ricchezza, sulla disponibilità di risorse. E mentre il livello nazionale sarebbe un livello in cui l'elemento della penuria si riaffaccerebbe pesantemente, il livello europeo, la lotta di classe sul piano europeo è il terreno in cui puoi effettivamente concorrere sull'avere le risorse necessarie per usare quella ricchezza comune che c'è. In questo senso a me sembra che questo documento, io non è che lo considero una pietra miliare stratosferica, però certo è un punto di passaggio nella vita della sinistra europea perché arriva ad un punto di sintesi importante tra tutti i partiti nonostante le differenze. Purtroppo questo non è avvenuto nel GUE, dico purtroppo perché io sarei felice di avere un processo del tutto parallelo. Purtroppo nel GUE c'è stata una costruzione di una mozione unitaria nel Parlamento europeo molto positiva e dal mio punto di vista molto condivisiva. Purtroppo nell'ultimo passaggio invece ho rivisto aprirsi le divisioni. Ecco, io vorrei sottolineare l'elemento positivo del documento che per la prima volta da tanti anni si è riusciti a fare non una mediazione linguistica ma effettivamente una proposta politica comune in questo senso proporrei di sottolineare il bicchiere tre quarti pieno invece che il quarto vuoto, diciamo così, perché la dinamica mi sembra positiva. Grazie Paolo, ci ha raggiunto anche Rosa Rinaldi che ringrazio di essere qua con noi e do la parola adesso a Roberto che invece è portatore di domande che abbiamo raccolto anche tra chi ci segue. Prego Roberto. Sì, grazie. Adesso le faccio subito. Naturalmente questi ragionamenti di Paolo mi portano un pochino, facciamo solamente un preannuncio, un pezzetto, faccio propaganda a me stesso e agli articoli che escono domani sul Signore Transform. Ho provato io un po' a ragionare proprio di questa fase di passaggio, anche di scontro tra i vari fondi che vengono annunciati, alcuni assolutamente insopportabili come il Messe, ma io ci metto tutti quelli a debito, la sentenza della Corte tedesca che non è una novità perché la sentenza ne sono andata a rileggere tutte. Rievo quella originaria su cui si diede il via libera a Maastricht, dove c'è la teorizzazione per rispondere alla questione di democrazia che dice Paolo, che è assolutamente sacrosanta, che l'unica sovranità è quella degli stati e dunque la Corte tedesca e il Parlamento tedesco devono garantire questa sovranità che deve essere tutelata nel rispetto del tipo di accordo che si è fatto con Maastricht, che è un accordo ordoliberista funzionalistico per stare al vecchio dibattito su cosa doveva essere l'Europa. E poi provo a dire se questo aspetto di Maastricht, tutto legato al mercato unico interno, regge la vicenda del coronavirus. Lo dico semplicemente perché ero molto tentato ad interlocuire con Paolo anche su questo se lui ha voglia di dire una battuta. Ma io devo essere portatore di due domande che mi sono arrivate perché c'è interesse per questo documento. Una arriva da Paolo Boffo che fa parte della nostra redazione e che segnalava l'assenza nel documento di una proposta per il reddito di base universale e incondizionato, insomma, come caratteristica con cui la sinistra europea si presenta nel dibattito, insomma. Cosa che noi peraltro stiamo sostenendo in Italia, come trasforma, anche nella formula in questo momento del reddito di quarantena. E la seconda, l'ha fatta Monica Di Sinistro, che è impegnata molto dentro le vicende del commercio, si lega un po' alle cose che dicevo prima, insomma, questa storia degli accordi commerciali, anche rispetto alla crisi della globalizzazione da coronavirus, in qualche modo, le sembra che non ci sia dentro quel documento e mentre vanno avanti ulteriori accordi sul modello TTI, per non solo, e dunque lo considerava un punto importante da recuperare. Grazie Roberto. E a Monica e a Paola per le domande, diciamo, per l'interlocuzione, gentile. Sui trattati che pone, la questione che pone Monica, ha ragione a dire che non c'è nel documento, non c'è. Non perché il partito della sinistra europea non abbia una posizione durissima contro la stipula di questi trattati commerciali che poi diventano a loro volta delle gabbie che impediscono ai singoli stati e ai continenti di decidere, ai popoli di decidere. Quindi Monica ha ragione nella critica sul fatto che non c'è, c'è noi trattati, rassicuro Monica che non c'è in questo documento, ma è la posizione del partito della sinistra europea. Quindi, come dire, me la caverai dicendo, in ogni documento c'è sempre qualche mancazza. In questo caso, in i trattati, non c'è proprio nessun problema politico, abbiamo una posizione molto netta contro di battaglia, l'abbiamo fatta sul TTIP e quant'altro, non c'è contraddizione politica, c'è al massimo una mancanza di scrittura, diciamo, di mettere una frase su questo, ma nessuno avrebbe avuto nulla da obiettare a metto. Sulla questione del reddito di base, la domanda di Paola è un po' più complicato, perché invece su questo ci sono posizioni non coincidenti tra i partiti e c'è un problema che in alcuni paesi ci sono redditi di base relativamente alti. Allora, il mettere delle cose scritte in cui si metta, bisogna fare un reddito di base che sia pari almeno a, e non in tutti i paesi si può mettere uguale, perché è evidente che non è uguale avere un reddito di base, diciamo così, in Grecia o in Germania, e questo fa sì che non siamo mai riusciti, in questi anni, per adesso non ci siamo riusciti, a trovare una formulazione che trovasse l'accordo unanime di tutti sul reddito di base. E quindi, mentre sui trattati si tratta semplicemente del fatto che non c'è la menzione, ma c'è una posizione assolutamente comune, sul reddito di base, diciamo, raccolgo, c'è un elemento di difficoltà, nel senso che non abbiamo una posizione comune di tutto il partito della sinistra europea. Ovviamente ci si lavora per farlo, ma questa è la situazione, e quindi non possiamo fare altro che fare a livello nazionale la proposta che avanziamo. Noi abbiamo detto, come nel caso di Rifondazione Comunista, che ci deve essere un reddito per tutti coloro che hanno o perso il lavoro, o perso il reddito, perché ci sono molte persone, nelle condizioni di lavoro nero, sottopagate, e avanti che in queste settimane, in questi mesi, perdono, diciamo così, le possibilità di vivere, perché di questo si tratta. O vengono meno delle retti familiari che avevano garantito questa cosa qui. Adesso sono cose drammatiche da dire, ma quanti sono in Italia quelli che vivono perché c'è la pensione del nonno? Perché così? Siamo un paese che sta in piedi su una sorta di welfare familiare con pluralità di redditi di entrata. Allora, tutti coloro che non sono più nella condizione di vivere devono avere un reddito che non può essere un unatatum, ma deve esserci fino a quando non avremo posto le condizioni per una piena occupazione. Perché qui l'impoverimento del paese non va a sbattere per tutti nello stesso modo. E sui redditi più bassi, quindi, c'è bisogno di un reddito, diciamo, universale per tutti coloro che non hanno il reddito. Mettiamola così, per capirci. E parallelamente c'è bisogno, è l'altra faccia della medaglia, di una legge che vada a recuperare risorse, a tassare le grandi ricchezze, perché sono le due cose su cui operare. Redistribuire soldi e garantire a tutti di essere fuori dalla necessità economica. Invece sul primo punto, in qualche modo più politico, più generale, che Roberto poneva, io direi questo. E in questo c'è di nuovo una bella differenza tra la forma e la sostanza. Perché la Corte Costituzionale tedesca dice delle cose che sono formalmente ineccepibili, su una parte, sul fatto che l'Unione Europea è basata sul fatto che gli Stati concordano tra di loro. La cosa inaccettabile è che mentre la Corte Costituzionale tedesca si pronuncia su ogni aspetto delle politiche europee per dire è accettabile o non è accettabile, per la Corte Costituzionale tedesca va benissimo che il Parlamento greco venga messo, diciamo, venga praticamente sciolto, cioè posto nelle condizioni di non poter decidere niente, che lo Stato e la popolazione greca venga messa nelle condizioni di dover accettare i ditta. Perché? Perché è evidente che il potere dello Stato tedesco è uno, è il potere dello Stato greco, della popolazione greca, dell'economia greca è un'altra. Allora, il nodo inaccettabile del modo di porre la questione tedesca è questo, che si basa su una democrazia formale che però fa poi valere dei rapporti di forza totalmente squilibrati, così come nessuno in Germania alla Corte Costituzionale si sogna di fare un ricorso per vedere se la violazione sistematica dei trattati che fa la Germania esportando di più di quanto potrebbe va bene o non va bene. Diciamo che i tedeschi cercano di farsi i loro porci comodi. Totalmente questo è inaccettabile. A me però la cosa che vorrei sottolineare, perché è un elemento interessante nella discussione politica, è che questa sentenza della Corte, che è interessante perché formalmente dice che non c'è nessun problema su che cosa è stato deciso e quindi non mette, come dire, direttamente i bastoni tra le rolle, e poi spara a palle incatenate contro la Banca Centrale Europea e la Corte Europea di Giustizia, secondo me segnala un problemino, che le cose come vanno avanti non vanno avanti esattamente come vorrebbe quelli che io chiamo la destra nazionalista tedesca, diciamo i prussiani, quelli che pensano che l'elemento tedesco si debba far valere senza mediazioni. E io penso che la cosa che si è aperta oggi è una contraddizione tra l'interesse di una parte delle classi dominanti tedesche, che pensa di far valere i suoi diktat senza mediazioni, così come è avvenuto nel 2008, nella sostanza 2009-2010, e invece un interesse delle borghesia, non del proletariato, delle borghesia, o se volete del capitale su scala continentale. Draghi è l'esponente di questo. Draghi non è uno di sinistra o uno progressista, è il pensiero, l'idea, un'idea di gestione del capitale è più larga. Oggi secondo me c'è una contraddizione aperta tra queste due, e la capacità del movimento operaio, della sinistra, dei comunisti, della sinistra di classe, chiamatela come volete, della sinistra di alternativa, secondo me è quella di infilarsi dentro questa contraddizione e di giocare una partita, perché altrimenti la partita è unicamente tra nazionalisti di destra tedeschi e capitalisti liberisti europeisti. Noi dobbiamo infilarci lì dentro, e ad esempio la proposta che noi avanziamo sulla BCE gioca su questa contraddizione e usa una necessità del capitale europeo per cercare di sfondare un diktat ordo liberista. Così come il tema del porre il problema della tassazione uniforme sul piano europeo si salda con una cosa che in una parte della borghesia europea trova un accorto, perché è chiaro che molte imprese sono incazzate che Microsoft non paga le tasse e loro sì, o che se sei abbastanza grande da decidere dove vai a mettere la sede, come fa la Fiat, sposti la sede fuori e poi chiedi i soldi in Italia. C'è una contraddizione dentro la borghesia. E noi dobbiamo entrare come un cuneo dentro questa roba qua per dire no, adesso le tasse le pagano tutti e non è possibile che l'Europa funzioni come un paradiso fiscale. In questo senso io penso che noi come sinistra dovremmo essere capaci a non essere né innamorati dell'idea dell'Unione Europea, europeisti, avanti, o dall'altra dire l'unica soluzione nazionale, ma invece la capacità di avere un disegno che è internazionalista, è egualitario, è di libertà, è di uso della ricchezza comune, che cerca di entrare dentro le contraddizioni per rompere dei meccanismi che altrimenti ti ingabbiano totalmente. La stessa cosa che abbiamo fatto sulla petizione europea che chiede di usare i soldi della Banca Centrale Europea per finanziare l'intervento, sul reddito, sulla sanità. Fa un'operazione del tutto simile. Usiamo un articolo pensato per finanziare anche le banche pubbliche regionali tedesche da parte della BCE. Usiamo quel comma, quel codicillo per dire facciamo una banca europea che diventi un fondo sanitario nazionale e questo sia finanziato. Noi dobbiamo essere molto corsari dentro questa Europa senza farsi incastrare dentro la contraddizione tra la borghesia dei draghi e la borghesia nazionalista della Corte Costituzionale tedesca. Noi dobbiamo avere una terza posizione capace di fare politica usando le contraddizioni tra borghesia che ci sono dentro questo casino. Non so se sono riuscito a dare l'idea della cosa ma a me pare che questo è il problema del movimento operaio. D'altronde, guardate il successo e finisco, ma nell'Ottocento in Italia c'era una destra borghese e una sinistra borghese. Il movimento operaio non c'era, il popolo non c'era, non votava, non contava niente. Il Novecento è stato l'anno in cui, è stato il secolo in cui il popolo è entrato dentro la politica da problema di ordine pubblico e è diventato problema politica la questione sociale. E quando i partiti socialisti, i sindacati sono nati, non si sono mica schierati con la destra storica o la sinistra borghese, hanno fatto un'altra cosa. Loro oggi vogliono ricacciare il movimento operaio, i popoli, fuori dalla politica. I trattati europei servono a questo, il bipolarismo in Italia serve a questo, a cacciare i popoli fuori dalla politica, di nuovo trasformarli in una questione di ordine pubblico, di gestione, non politica. Noi dobbiamo tentare di rompere questo meccanismo giocando sulle contraddizioni, non schierandoci con l'uno o con l'altro, ma giocando sulle contraddizioni per riuscire a far emergere di nuovo la questione sociale, la questione del progresso, della solidarietà, chiamatela come volete, come la grande questione politica che oggi si salda alla questione ambientale. Perché questo è il problema dell'umanità oggi, legare la questione sociale alla questione ambientale. Questo è il nodo. Il resto è la barbarie, comunque vinca un po' più uno, un po' più l'altro, è la barbarie. Io penso che questa è la vera scommessa che abbiamo, è il terreno europeo, è il terreno su cui dobbiamo giocare la partita, indubbiamente. Grazie Paolo. Saremo qua molto più a lungo per interlocuire con te perché sei molto stimolante e in gran parte condivisibile dal nostro punto di vista, quindi tanto ti ringraziamo e appunto, diciamo, colgo anche l'occasione per confermare l'interesse e averti ancora per seguire un po' quelle che sono le vicende europee ma anche per capire come il Partito della Senza Europea possa mettere più profondamente le radici, diciamo, anche in Italia e provare a avere questa dimensione della politica anche presente come forza concreta, reale, anche nel nostro paese. Grazie ancora e grazie a tutti voi che ci avete seguito e a prestissimo. Grazie a voi e ciao a tutte e tutte. Ciao! Ciao!